Chi? Che? Cosa? Dove? Come? Quando? Sì, state con me! Chi? Che? Cosa? Dove? Come? Quando? Tutti insieme! Dove? Come? Quando? Chi lo scoprirà? Dove? Come? Quando? Tutti uniti! Dove? Come? Quando? Qual è la verità? Dove? Come? Quando? Tutti insieme! Chi? Che? Cosa? Dove? Come? Quando? Investigatori al lavoro! Io sento aria di festa in arrivo, amici! Due, patro, sei, lato, questo è il ballo matto! Vestizziamo un gran lavoro col ballo matto! Ci divertiamo, facciamo tutti un ballo matto! Vostante! Vostante! Vostante!